Nella ripresa al quinto va in vantaggio inaspettatamente il Genoa, l'azione è corale, romano, gentile, poi Briazchi che si destreggia benissimo nell'area affolata e fa secco, torno. Passano 5 minuti e l'Udinese pareggia, calcio d'angolo di Suriac, il pallone ritorna allo Iugoslavo, su di lui il fallo di Viola. Ed il brasiliano è digno a trasformare la massima punizione.